Buongiorno a tutti e bentrovati in questo nuovo video in cui faremo il punto della situazione sul campionato del Lecce Dunque, ieri si è conclusa la settimana giallorossa con il pareggio per 1-1 sul campo del Perugia Ma andiamo per ordine Mercoledì scorso i salentini hanno affrontato al Via del Mare l'ascoli di Andrea Sottil Una prestazione tutto sommato positiva Il Lecce ha andato in vantaggio nel primo tempo con Pablo Rodriguez servito magistralmente da Antonino Ragusa Negli ultimi minuti del primo tempo l'ascoli poi ha tentato di rendersi pericoloso dalle parti di Gabriel Con un colpo di testa dell'ex di giornata Luca Paganini Respinto dall'estremo difensore brasiliano Secondo tempo è cominciato sulla falsariga del primo Il Lecce è andato in vantaggio Ha siglato il 2-0 con Massimo Coda Un bel gol tra l'altro Di tacco Di pregevole fattura E ha più volte sfiorato O per meglio dire divorato Il 3-0 In entrambi le occasioni con Antonino Ragusa La prima occasione è murata dalla retroguardia marchigiana La seconda invece per un errore dello stesso esterno siciliano Che insomma si fa A tu per tu davanti alle ali Si fa ipnotizzare dal portiere bianco-nero E niente Dopodiché poi l'ascoli ha cominciato a prendere campo Ha letteralmente schiacciato in quel quarto d'ora 20 minuti i giallorossi nella loro metà campo Ed è andato più volte vicino al pareggio con Ricci Che ha accorciato le distanze Poi in seguito sempre con lo stesso Ricci Con Dionisi e con Caligara Il Lecce poi alla fine Negli ultimi minuti Nei minuti di recupero Ha seglato il 3-1 Con un rigore di massimo coda Dunque questo mercoledì Ieri invece La prestazione del Lecce a Perugia Partita e terminata per 1-1 Diciamo non è stata Del tutto esaltante Il primo tempo non ci sono state grosse occasioni da evidenziare A parte due timidissimi tentativi da parte del Lecce Con Rodriguez e Coda Nel secondo tempo Il secondo tempo invece ha cominciato con dei ritmi più frizzanti e dinamici Il Perugia ha sfiorato il gol con Olivieri Il Lecce poi ha risposto con Pablo Rodriguez Poi gli Umbri sono andati in vantaggio Da prima se apriamo la parentesi Si è infortunato Gabriel Il portiere titolare del Lecce E' entrato poi Marco Bleve L'ho sostituito Gli Umbri poi sono andati in vantaggio Con il classico gol dell'ex Olivieri Che ha ricevuto in verticale Ha dribblato Bleve in uscita a maldestra E ha portato in avanti i suoi Il calciatore marchigiano Poi nativo di Fermo Si è poi reso protagonista di alcuni gesti provocatori Nei confronti della panchina di Marco Baroni E dei tifosi salentini E niente Il Perugia poi ha proseguito per tutta la gara Ha adottato un approccio votato al contenimento All'aggressività al pressing Il Lecce non è riuscito mai a trovare il bandolo della Matassa E la partita è andata avanti così Altro caso il Perugia poi ha sfiorato il 2-0 con Manuel De Luca Fino ad arrivare poi nei minuti finali Nei minuti finali abbiamo l'episodio che cambia la partita Ah non abbiamo detto dell'espulsione Che il Perugia ha disputato tutto il secondo tempo in 10 uomini Quindi questo è un ulteriore dettaglio in più Negli ultimi minuti poi c'è stato un calcio di rigore concesso a Lecce E realizzato da coda Sempre più capocannoniere di questa serie B E poi altre Nel forcing finale dei salentini Abbiamo avuto Ci sono altre azioni pericolose Da prima con la conclusione di Luciani Poi con Juhlman Ma Cicizola Come aveva fatto nel primo tempo con Rodriguez E anche all'inizio del secondo tempo Compie un'altra parata importante Dunque Nel complesso la prestazione di ieri è stata Non è stata del tutto esaltante E al netto ovviamente di tutti gli alibi Che in realtà possono esserci tante partite nel giro di tre settimane Tanti infortuni Tanti elementi che non erano in una condizione fisica adeguata È chiaro che bisognava fare di più Però insomma nel complesso Buon punto ottenuto su un campo ostico È difficile Adesso i giallorossi avranno una più Una settimana di tempo Per preparare il big match di sabato prossimo Il Via del Mare contro il Brescia e Inzaghi Un altro scontro diretto fondamentale Manchierà Tuya Squalificato E vedremo insomma I tempi di recupero Di Gabriel E infortunatosi ieri Al Renato Curi Ecco questo Questo è quanto Riguarda La settimana Giallorossa Ci vediamo lunedì Il prossimo lunedì Dove un attimino Analizzeremo In maniera sintetica Quello che succederà Fra Lecce E Brescia Il prossimo lunedì Il prossimo lunedì